In merito ai buoni spesa che i comuni stanno predisponendo in questo periodo, io faccio un appello da amministratrice bassanese e veneta a tutti i miei concittadini. Il nostro popolo ha una caratteristica meravigliosa che è quella di non gradire gli aiuti assistenziali e di preferire invece la possibilità di tornare autosufficiente il prima possibile. Questa però è un'emergenza molto particolare e lo strumento che ci ha dato Roma in questo momento sono appunto i buoni spesa, con una cifra tra l'altro abbastanza irrisoria rispetto alle necessità. Io faccio un appello, se siete in difficoltà in questo momento non abbiate vergogna, rivolgetevi al vostro comune di residenza. I comuni cercheranno in tutte le maniere di venirvi in aiuto ma soprattutto darete la misura delle necessità del territorio. Solo in questa maniera l'Anci Veneto e i comuni veneti avranno la possibilità di andare a Roma a pretendere ciò che è giusto. Vi ricordo infatti che il Veneto è una di quelle regioni che lascia a Roma regolarmente miliardi ogni anno. È giusto quindi che i soldi dei Veneti tornino il prima possibile ai Veneti. In particolare per i mesi trovate tutti i recapiti e il modulo da compilare sul sito del comune di Bassano. Mi raccomando le domande dovranno essere presentate da lunedì 6 fino a venerdì 10 a mezzogiorno.